Yugi a tutti duellanti ben ritrovati sul canale. Oggi finalmente siamo qui con l'opening in anteprima del nuovo set in uscita il 19 ottobre Age of Overlord. Ovviamente però prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Geekstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice a sconto qua sotto in descrizione. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokemon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo ovviamente passiamo all'unboxing. Prima di partire ovviamente con l'unboxing vorrei darvi un paio di informazioni in merito a questo set, visto che mi è stato riferito che secondo molti io faccio disinformazione. Questo è in parte vero, più che altro io a inizio video ho sempre detto ragazzi non so cosa sto sbustando. La prima tiratura di questi box e ovviamente questo e anche gli altri che andremo ad aprire il live giovedì alle 21.30 vi aspetto, include un bonus pack. Inoltre a tutti gli acquirenti che hanno comprato questa cosa in Giappone, a me non è stato dato perché l'ho preso su Amazon Japan, sfortunatamente, è stato regalato un Eden Capture Pack 2023 volume 2 per ogni box. Mentre per quanto riguarda il set, all'interno possiamo trovare delle carte utilizzate da Alex Brody, personaggio DGX, Reginald Castle della serie Zexal e Sergei Volkov della serie Yu-Gi-Oh! Arc 5. Mentre per quanto riguarda il set, all'interno possiamo trovare carte Alien, Immortale Terrestre, Labyrinth, Magician, Mannadim, Nouvelle, Odise, Ogdoatic, Pendrum, Vat, Visas, Syncro, TG, Vanquish, Horus, Snake Eyes e tanto altro. In più viene introdotto l'archetipo Diablo Star. Detto questo ritiriamo fuori il bisturi, quello che ne rimane, e andiamo ad aprirci il box, sperando di tirar fuori la prisma a questo giro. Apriamo e vediamo. Comunque ragazzi mi dispiace ma oggi siamo senza Michele e Francesco. Michele ovviamente aveva da fare, Francesco mi ha dato buca mezz'ora fa. E quindi siamo da soli. Ragazzi guardate un po' che figata. Eccovi qua il pacchetto di cui parlavamo prima, quello che ha singola tiratura. Poi qua abbiamo, vabbè, il solito token che non è un token ma che potevano anche fare, nel senso metti un token a casa all'interno del box. Sarebbe figo. Però eccolo qua, guardate ragazzi. Praticamente è veramente lui, è il token suo. Detto questo andiamo ad aprirci il box e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Andiamo con il primo. Abbiamo una bambina, supporto Snake Eyes, carta a caso, carte che si sciolgono e poi abbiamo, vabbè, carta a caso equipaggiamento. Andiamo avanti, dai, su. Allora, apriamo e vediamo. Comunque ragazzi, vabbè, le carte OCG sono effettivamente fatte meglio. Cioè, non ci hanno gli angoli spaccati, incredibile. Allora, abbiamo supportino Horus, supporto VAT, che non sono malvagie. Poi abbiamo carta VEDA, carta VU, non lo so, e supporto VISAS, che da noi molto probabilmente sarà o Ultra o Secret, conoscendo un po' le radità di quel mazzo. Allora, andiamo avanti. Monstrixis a caso, vabbè, una navicella. Supporto TG, carta Nouvelle e niente. Molto probabilmente supportino Arcidemo e Drago Rosso. Molto probabile. Allora, andiamo con il prossimo e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Allora, solito Monstrixis di prima. Poi, supporto Snake Eyes. Questo penso sia supporto Horus. Poi, ah, che bello! Ma hanno rifatto il commerciante di carte. Vabbè, avrà un altro effetto, però, vabbè, la carta è palesemente quella. Poi, una Secret. Bello. Questo dovrebbe essere sempre Snake Eyes. Dai, che figata! Acqua di Strettoni. Cioè, forse un po' troppo Tamarra. Forse la Secret nostra rende meglio. Però figo! Tanta roba la carta. Adesso, che ci siamo già bruciati la Secret, dobbiamo trovare per forza la Starlight. Allora, andiamo con il prossimo. Che comunque, Snake Eyes dovrebbe essere molto interessante come mazzo. E, se non sbaglio, la prima carta è uscita in Dune. Quindi, che ne sai che non potrebbe assidire di prezzo? Se il mazzo diventa effettivamente forte. Vabbè, staremo a vedere. Abbiamo una lucerta alla pianta. Supporti immortali terrestri con le catene. Vabbè, questo è palesemente un mosso schiavo. Poi, andiamo avanti. Un'altra bambina. Ah, è una rara. Ok. Xyz, a caso, acqua. Fermi, ragazzi, so che volete supportare questo canale. Quindi, vi basta solamente mettere mi piace e iscrivervi. A voi questa cosa non cambia niente, ma a me dà un supporto enorme, perché mi permette di far arrivare questi video a tutta la community, in modo tale da poter arrivare a 5k entro fine a. Sembra impossibile, ma secondo me ce la possiamo fare. Detto questo, ringrazio ovviamente chi lo farà per tutti gli altri. Vabbè, c'avete la madre che batta Civitanova. Tanto lo sapete. Allora, allora, andiamo avanti. Vediamo il prossimo. Allora, diciamo che l'obiettivo mio per questo set, se riesco a tirarlo fuori, credo sia una rara come carta, eh. Poi andremo a vedere. È il nuovo Xyz, rank 12, che è tipo Zeus, ma lo nega. Che non è male e mi piacerebbe farvelo vedere e poi spiegarvi la carta. Allora, abbiamo la lucertola, un altro immortale terrestre, un'altra carta veda, questo non ne ho idea. No, già la ultimate, già la ultimate. Vediamo. E dovrebbe essere il mostro che stercia buco nero, se non ricordo male. Ragazzi, questa fogliatura è oscena. Ma dovrebbe essere quello? Sì, 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 ho detto bene il Dark Old Dragon. Che figa! Cioè, ragazzi, a livello di artwork, senza andare lì a fare i fantascientifici sul meta, è la carta più figa a livello di artwork di questo set. Ma è bellissima. Col buco nero sotto, dai. È incredibile. Sta fogliatura non... cioè, non mi permette di far vedere bene la carta, ma è fantastica. Guardate un po'. Che bella. È veramente figa. L'effetto dice, se uno piumosi sul terreno vengono distrutti dall'effetto di una carta che non li ha scelte come bersaglio, quindi buco nero, hijacky, questa carta qua, puoi evocare specialmente questa carta dal tuo cimitero. Se era lì quando... quel mostro è stato distrutto. Se questa carta viene evocata specialmente, puoi aggiungere un buco nero dal deck alla mano durante l'inphase di questo turno. Puoi utilizzare ognuno degli effetti precedenti di drago buco nero una sola volta per turno. Ah, in più, non può essere distrutto dagli effetti delle carte. Carina. Molto simpatica come carta. Spero che da noi la facciano secret, perché ruba il posto a una secret decente, però effettivamente mi piace, la vorrei anche per me. Allora, andiamo col prossimo. Adesso che ci siamo giocati sia ultimate che secret, rimarrà qualcosa? Difficile. Comunque, ridendo e scherzando, esiste una trappola che si chiama buco bianco, che ferma buco nero. Quindi prossimamente avremo anche drago buco bianco. Conoscendo la Konami, prima o poi sarà pure quello. Allora, abbiamo supporto TG, supporto Horus. Questa non so cosa sia, credo una roba immortale terrestre, ma è molto carina. Ah, e... è vero. Ci stavano anche i supporti Gaia. Vabbè, e... andiamo avanti. Andiamo con il prossimo pack. E vediamo. Vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di carino, perché le super non sono ancora uscite, neanche le ultra. Quindi non so cosa ci sarà in rarità minore. Allora, abbiamo un'altra bambina. Cioè, c'è la bambina di prima. Un mostro pendulum. Una roba che funziona con gli Xyz, perché questa è utopia. Una carta Snake Eyes. E... e... Ragazzi, questo è da galera. Attenti a cosa pensate. Qua c'è per forza la Starlight. Guarda, per come si è aperto. Allora, stesso supporto Horus di prima. Questo... ok. Questa l'abbiamo già visto. E c'è una carta super. Un TG. Ok, la super è prima della rara. Carino. Adesso vediamo. Potrebbero salire anche le carte TG, quelle vecchie. Poi adesso ci vediamo TG Maga Meravigliosa a 20€. A questo punto. Dipende, dipende. Dipende tutto da cosa faranno i mazzi, però... Nel senso, non ne ho sentito troppo parlare. Allora, ho altro supporto Horus. Che, ragazzi, io vi dirò. A me questi non dispiace. Qualcosina, forse, sul canale riesco pure a portarvi. Adesso vediamo pure anche i Trascendosaurus. Quindi vediamo. Se... se c'ho voglia di montarlo, ve lo porto. Altrimenti... ok. Un mostro Xyz a caso, F. Se riesco ve la porto, altrimenti vi porto direttamente quella di Hubel, che monterò sicuramente al 100%. Allora, apriamo il prossimo. Allora, abbiamo sta navicella inutile. Poi abbiamo Tari, mi sembra si chiami. Tari, se non mi sbaglio, che ha un effetto anche, boh, mezzo simpatico. Se questa carta è nella tua mano, puoi scegliere come bersaglio un mosso scoperto nella zona Mostri Main, che attiva il suo effetto. Distruggilo e se lo fai evoca specialmente questa carta nella zona in cui hai distrutto il mostro. Puoi utilizzare questo effetto solo una volta per turno. Boh, carino è il caso, tipo, spaccassi qualcosa che parte e ci sta. Poi, andiamo avanti. Abbiamo ancora carta TG, carta Visas, considerando lui. E per concludere abbiamo Infernal. Questa carta è molto carina, soprattutto perché deve uscire questo. E diciamo che, considerando che ti fa serciare o ti fa fare fulici di un mostro pyro, non è male. Boh, adesso staremo a vedere, perché il mazzo nuovo dei Fire King non mi dispiace. Eh, sì, tutti i mazzi del cazzo piacciono a me, però vabbè. E adesso vediamo quando uscirà. Anche quello tanto mi arriverà sicuramente e una lista con tre structure ve la porto. Non faccio come quella di Arcidemon Dragorosso, che ho detto che forse ve la portavo e poi non l'ho più fatto, perché non mandava effettivamente di stare un mazzo del cazzo. Ma dettagli. Allora, abbiamo un'altra carta Snake Eyes, carta Horus, altra carta Snake Eyes da Terreno. Poi questo è... Boh, sembra tipo favoloso. Andiamo avanti. Ragazzi, quell'archetipo è veramente un po' tumace. Allora, ma probabilmente è come i personaggi anime, nel senso la corporatura è quella di una bambina di otto anni. Poi come minimo ne hanno diecimila, eh. Non giudico. Allora, andiamo avanti con questo che sembra ancora una rana. Lui che l'abbiamo già visto. Questa, il re supremo. Poi abbiamo... questo lo conosco. Questo è un mazzo del cazzo. Ci perdo sempre. E per concludere abbiamo il supporto TG Ultra. Il sincro. Bello. Non so perché, ma mi ricorda troppo il John Karcher. La cosa positiva di spacchettare da solo a questo giro è che non mi può inculare Francesco che si è beccato tutte le foie. Andiamo avanti. Allora, abbiamo questa VS. Poi, vabbè, questa sembra uscita da un corto della Disney. Quelli brutti e strani. Poi, vabbè, questo succede quando vogliamo mischiare troppe lore. Quindi escono ste cose. Ma andiamo avanti. Poi, avanti. Ah, carta TG e basta. Allora, vediamo quanti pack ci sono rimasti. che ce n'abbiamo ancora un botto. Molto probabilmente non ci sarà più niente qua. Però, però, vediamo. Oh, bello. Abbiamo supporto VAT. Penso che è da ABPF, tipo Ancient Prophecy, una roba del genere che non vedo più. Cioè, non vedevo più VAT. Ah, ok. Abbiamo il supporto Pendulum. Quello nuovo, che non è assolutamente male. Molto carino. Adesso, per farlo acculturato, vi leggerò l'effetto. Questa carta guadagna 100 d'attacco per ogni carta. Mostro Pendulum che controlla. Può utilizzare ognuno dei seguenti effetti di superare il Pendulum una sola volta per turno. Se questa carta viene evocata al Link, puoi aggiungere un mostro Pendulum scoperto dal tuo extra deck alla tua mano. Durante la fase principale, se hai due carte nella zona Pendulum, penso si rifesca la main phase comunque, effetto rapido, puoi evocare specialmente un mostro Pendulum dalla mano o cimitero in posizione di difesa. Con un livello compreso tra i valori Pendulum delle carte nelle tue zone. Quindi, assolutamente molto buona, considerando che, vabbè, l'unica carta che non riavrete mai voi, Pendulum player, è Electromite. Quindi, fatevene una ragione e così. Comunque, ultimamente hanno annunciato anche dei supporti Magistrector, se non ricordo male. E quelle carte stanno salendo a stecca. Quindi, se volete montare, ragazzi, Tornado, i Boom Buku, recuperate il prima possibile. Perché sono carte che hanno una, massimo due print. E tutte foil, ovviamente. Tanto, se non ricordo male, uscivano da Core e da Dox, più o meno. Mi sembra di sì, se non ricordo male. Allora, abbiamo ancora il portino Horus. E questo, ragazzi, sembro un mix tra un Visas e una Mermail. Adesso, vabbè, qua non c'è niente, ovviamente, ma andiamo a vedere. E infatti è un Mannadium. Vabbè, andiamo avanti. Quel mazzo è stato un po' un flop tra Mannadium e Visas. Questa roba che è uscita da Dune. E anche prima, ovviamente. Abbiamo, abbiamo il supporto Dino. Poi la bambina triste. Carta TG. Carta Snake Eyes. E lei che dovrebbe funzionare sia con gli Snake Eyes che con i Diabelle Star. Allora, andiamo avanti. Andiamo a vedere. Ah, ragazzi, se ovviamente volete un'analisi più approfondita di qualche archetipo che si trova qua all'interno, scrivetemelo qua sotto nei commenti. E si fa. Ovviamente qua stiamo vedendo più che gli effetti, tranne di qualcosa, gli artwork. E ovviamente proviamo a tirar fuori qualcosa di carino. Assolutamente. Allora, sempre Snake Eyes. Questa che l'ho vista in una copertina del C-Matrix. E bella. È una cosa stupidissima, ma mi piace un sacco. Comunque, beh, i Diabelle Star sono carini. Nel senso, c'hanno Dark Witch, mi sembra. Che è, che, vabbè, è una top assurda. Quindi, diciamo, vincono facile, eh. Abbiamo sto coso che sembra ancora una lana. Questo. Poi, la carta a mille lore. E, 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 e questo che dovrebbe essere Excel, Snake Eyes. Tipo, una roba del genere. Ok, andiamo avanti. Sono un po' deluso. Mi sono portato via tutta la roba buona all'inizio e adesso non c'è rimasto più niente. Abbiamo la lucerta più potente dell'universo che non è Kajetokage. Poi l'immortale terrestre che, nel pratico, abbiamo trovato pochi supporti. Poi, aaaah, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Godo perché ce l'ho. Ah, ragazzi. Godo. Ce l'ho. È mio. Fanculo Yuya. Altro supporto Horus. Questo, se non ricordo male, non c'era ancora mai uscito. Tipo, sembra, no, sembra. Credo molto probabilmente sia anubis. Allora, andiamo avanti. Abbiamo gli alberi parlanti. Ehm, ok. Carta Snake Eyes. Carta Continuavat. E, 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 altra carta Horus. Che non è, ovviamente, il primo sarcofago. Allora. Andiamo col prossimo. Oh, apriamo. Ah, ah, ecco. Carta Nouvella. Con una ragazzina, ovviamente, bionda. Molto carina. Proprio per noi. E un altro Synchro Vat. Peccato che non esistono più le Ultimate. Perché, se non ricordo male, tutti i Synchro Vat erano Ultra Ultimate. E adesso... Wow, è raro. Non lo so. Ehm, spero... Vai, da noi Ultimate è impossibile. Però spero gli diano una rarità accettabile. Molto probabilmente sarà o Common o Super. Non credo andranno più di lì. Forse un'ultra rara. Tanto per, cioè, dare continuità. Allora, abbiamo la bambina inquietante. Siamo sicuri a questo giro che sia di sesso femminile. Poi, abbiamo Carta Exis, Carta Abu e... No! Povero Scattershot. Ma poverino. Ma è nato... Cioè, è nato o sta morendo? Spero stia nascendo. Troppo bellino. Bene, ragazzi. Ora sappiamo come nascono i bambini. I piccoli di Scattershot. Non scopano, probabilmente. Beh, diciamo che è un porno tra Regina Vulcanica e Destino Fuoco Vulcanico. Non è quel genere di roba che vorresti vedere nell'arco della tua vita. Mettiamola così. Allora, bello, bello, bello pure lui. Lui l'abbiamo già visto. E cartarci demone. Wow. Dai. Ultimi sei pack. Datemi una gioia. Ragazzi, tanto la Starlight non è rara come quella nostra. Quindi è come fosse una Collector. Tirami fuori sta Prisma Collector OCG che è invendibile. E così siamo tutti contenti. Dai, su. Dai, guarda. Bella. E no, niente. Almeno, cavolo. Se mi devi da qualcosa, ma damme quel diamine de finto Zeus, cavolo. Quello non mi dispiacerebbe. Il problema è che non me l'hai ancora dato. Allora, dai. Questa è inquietantissima. Supporto TG. Carta Arco Narrativo con Yuya. Quindi Arc 5. Credo. E niente. Andiamo col prossimo. Fra un po' sventro anche mia madre a questo punto. Allora, abbiamo carta TG. Boh, ok. E, 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 e. Boh, altra carta per i mazzi sincrono. L'unica soddisfazione non può essere Drago Buco Nero. Allora, andiamo avanti. Tanto come minimo quel cazzo di Drago. Cioè, quel cazzo di Zeus falso. È ultra raro. Cioè, è un ultra raro. È raro. Quindi, è inutile. Uh, supporto Ogdo Atic. Mamma mia. Che fa... Ragazzi, che fallimento antichi guardiani. Veramente. È uno dei pochi set con le Collector che non aveva all'interno un mazzo decente. C'era Ursartico, che aveva una meccanica mezza simpatica. O Sceno. E poi c'era Ogdo Atic, che ovviamente faceva schifo. Forse ce n'era un terzo, ma anche quello era inutile. Fortunatamente, Konami da lì in poi ha detto Dai, fammo dei set con le Collector che hanno senso. E quindi da lì è migliorata la situazione. Anche se, comunque, mi sembra prima, cioè, Gran Creator e prima di antichi guardiani. C'erano i Brave Token. Quindi, nel senso, hanno solo fa... Hanno... Hanno solo cappellato. Allora, abbiamo. Carta Aorus, carta TG, carta Nouvelle... Ah, ok. Questo è il fidanzatino. Ok. Anche lui, come minimo, ha un milione di anni. Andiamo con l'ultimo pacchetto. Così possiamo piangere di non aver trovato l'unica carta che volevo. E abbiamo, allora, supporto VAT. Ua, bambini e... Che culo! Eccola, ragazzi. All'ultimo pack, porca troia, avemmo trovato l'unica carta che volevo. Ok. Non abbiamo la Starlight, ma, ragazzi, nel senso, abbiamo altri due box per tirarla fuori e cascasse il mondo giovedì la Starlight esce. Senza sei senza ma... Però dai, dai, oh, finalmente, ve la volevo far vedere. È questa qua, la carta che si dice sostituirà Zeus, ma non è vero. Diciamo che è una rubetta carina da avere, ovviamente. Adesso andiamo a vederci l'effetto, così vi spiego un attimo cosa fa. Questa carta può essere evocata con due mostri di livello 12. L'effetto dice, puoi anche evocare Xyz questa carta utilizzando un mostro che controlli con l'attacco più alto durante il turno, o il turno successivo in cui il tuo avversario ha evocato specialmente due o più mostri dell'extra deck. Trasferisci i suoi materiali su questa carta. Se viene evocato in questo modo, non puoi evocare normalmente o specialmente altri mostri per il resto di questo turno. Mentre, passiamo adesso all'effetto vero che queste erano, diciamo, le condizioni di evocazione, nessun giocatore può attivare gli effetti di mostri con attacco 3000 o superiore, mentre controlli questa carta evocata Xyz. Una volta per turno puoi staccare un materiale da questa carta, far ritornare un mostro sul terreno nella mano. Diciamo che come carta ci sta, l'unica cosa sono le due limitazioni che sono un po' grosse. La prima è che evoca da 3000 in su, quindi fosse stato da tipo 2500 in su sarebbe stato molto più forte e molto più interessante. Anche se comunque rimane un'ottima carta. L'altra è che se evoco lui sono limitato e non posso evocare normalmente o specialmente altri mostri per il resto di questo turno. Quindi diciamo che o lo fai come ultima cosa, quindi ovvia questa cosa, o altrimenti se ti tocca farlo subito per qualche oscuro motivo ti ritrovi praticamente loccato, quindi è un po' una merda. Però vabbè, il set esce il 19 di ottobre. Io credo che sì, me lo andrò a recuperare perché comunque è una carta interessante e potrebbe servire, assolutamente. Detto questo ragazzi vi rinnovo l'invito per giovedì sera alle 9 e mezzo a venire in live sul canale perché ci apriamo non uno ma due box alla ricerca ovviamente della Prisma e di tutto il resto che non abbiamo ancora trovato. Vi chiedo come sempre ovviamente un like di supporto e di iscrizione se il contenuto vi è piaciuto. E noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti! Certo? Ci eravamo dimenticati di aprire il pacchetto Promo, dai! Che merda!